Do il buongiorno al nostro ospite di questa settimana Michele D'Annunzio, direttore di Chiaro Quotidiano. Buongiorno Michele Davasto. Questa corsa è sempre attesissima e non solo per gli sportivi. Ci sono strade che hanno beneficiato di lavori mai immaginati. È vero, è vero. Il rifacimento dell'asfalto forse è uno dei benefici maggiori del Giro d'Italia quando arriva in Abruzzo perché spesso si aspetta questa corsa per rifare il manto bituminoso di strade che sono disastrate. E a proposito di disastri voglio far vedere proprio il tuo quotidiano, la testata che dirigi. Nella centrale fotovoltaica devastata dai ladri, qui l'energia rinnovabile è solo un ricordo, siete tornati nel campo solare Elio 1. Che cosa avete trovato? Allora insieme ai colleghi Antonino Dolce e Nicola Cinquina stiamo facendo un giro nelle opere pubbliche abbandonate del Vastese e non sono poche e ti dico. Questa è una delle peggiori perché in un periodo in cui si parla tanto di energie alternative abbiamo una centrale fotovoltaica a Cupello abbandonata da anni, insomma e depretata anche dai ladri. Quindi uno spreco di milioni e milioni di euro. Davvero una vergogna. Opera pubblica peraltro. Opera pubblica abbandonata di proprietà adesso dell'Arap. Speriamo che si faccia qualcosa. Andiamo al centro, le pagine di Chieti. Muore in ospedale, ASL condannata. Questa è la notizia di apertura. Infezione fatale per una madre di sette figli, una donna anziana che vedrà per la sua famiglia un risarcimento di 900 mila euro. Teramo morto il giovane 34 anni disperso in montagna, ne abbiamo parlato. E poi a 16 anni intossicata in casa dalla stufa. Accade a Torino di Sangro, è stata avvelenata dal monossido di carbonio. Qui c'è la fotonotizia. È stata trasportata all'Umberto I di Roma. Difficile commentare. Michele sicuramente è molto grave, che ancora ci siano questi strumenti per riscaldarsi così obsoleti. Certo, bisogna fare la massima attenzione quando si utilizzano questi metodi di riscaldamento. Poi fortunatamente la famiglia è riuscita a lanciare in tempo l'allarme, quindi sono potuti intervenire i medici del 118. Speriamo che si risolva presto. Fine delle speranze per l'Alpino. L'apertura del messaggero e poi lo sciopero della fame e dei medici del 118. Noi precari a vita dicono, andiamo ad approfondire, c'è il Nando del Giovane che è tra i sindacalisti pronti allo sciopero della fame per ottenere dall'ASL la stabilizzazione. È un destino davvero ingrato per questi operatori della primissima linea. Sì, sono sempre in prima linea, sia nel periodo pandemico ma anche prima, lo saranno dopo. Sono stati considerati a chiacchiere degli eroi durante il lockdown e poi sono stati dimenticati. Bisogna stabilizzarli perché le nostre strutture sanitarie ne hanno bisogno. Una bella notizia che ci porta in Molise. Con l'aiuto di poliziotti pescaresi è stata salvata la piccola Nicole. Cinque anni si era allontanata da casa, era finita tra i rovi in una montagna. Per fortuna è tornata a casa in lesa. Il Germe, un altro quotidiano online, ci porta nell'area Peligna. Per parlare però dei 12 mila elettori attesi alle urne. Conferme novità per la fascia tricolore. Sono ben 49 su 305 i comuni abruzzesi che andranno al voto il prossimo 12 giugno. Tornata elettorale molto importante perché ci sono anche comuni grandi e medio-grandi. Parliamo di L'Aquila, parliamo di Ortona, ma anche San Salvo e Atessa. Permettimi di dire che su San Salvo c'è una situazione particolarmente ingarbugliata perché sono divise sia la maggioranza di centrodestra che l'opposizione di centrosinistra. Quindi partita apertissima. Caos bipartisan, potremmo dire. Torniamo alla storia di Danilo Lesti. Questa è Repubblica, trovato l'Alpino disperso da venerdì su Montepiselli, una storia che ha avuto un eco nazionale. L'Aquila si appresta a celebrare il tredicesimo anniversario del sisma. Il Parco della Memoria sarà epicentro del dolore, ma qual è il problema? È che la ricostruzione è sempre rallentata, è sempre lenta, rallentata ulteriormente quest'anno dal caro Materiali. Michele, con questo chiudiamo. Un commento veloce. Intanto ritorna la fiaccolata, quindi un momento di ricordo per queste 309 vittime, alcune morte sotto le macerie della casa dello studente, ricordiamo tutto quello che è successo e poi c'è la ricostruzione. Da 13 anni si attende la conclusione e adesso questo ulteriore rallentamento. bisogna accelerare, come ha detto Draghi, a settembre. Grazie, ci troviamo domani mattina. Grazie. Grazie a te.